allora oggi mi sono svegliato oggi mi sono svegliato e allora è successa questa cosa ho sognato sembra tipo come i df ho sognato di essere amico di df e incontravo black london e io ero white london io ero white london e allora prendo dei vestiti bianchi me li metto solo che era giorno che paura devo fare ma non ho visto tutti quanti perché era giorno posso parlare ragazzi ma c'era che era giorno allora io prendo e mi vesto tutto di bianco vado fuori prendo il mio fratello gli do una sberra in faccia prima di prima di tutto e questo ragazzi è solo un sogno che mi sono preso cioè ero amico di df se vede black london ecco io sono white london ero white london perchè prendo il mio fratello ed inizio a fare male come black london però io sono più incapace di black sono più incapace di black london facevi schifo si faccio più cagare faccio cagare più di black london schifo si avevo visto black london alla fine ci siamo black london non è quella persona black london chi è è freddo alla fine arriva al tramonto arriva freddo freddo di bbf arriva vestito giusto di nero e black london alla fine c'è uno scontro tra black london white london e c'è mio fratello che guarda maggiorando il pop corn alla fine c'è il black london che gli da un calcio in faccia e lo spedisce lontano arrivano tutti i nostri parenti e ci dicono ma che state facendo alla fine c'è freddo che dice sono black london non potete capire allora poi alla fine ci sono io che dico sono white london capiterlo sono white london sono detto che è white london vabbè sono white london alla fine i miei parenti mi hanno sberra in faccia mi spediscono in camera mia madre mi mette in punizione e invece io dico yeee alla fine mi con mi dice tu non lo sai tu non lo sai tu non lo sai ragazzi posso raccontare anche l'ongiorno in un altro video alla fine black london finisce posizione